Una tragedia della disperazione e dell'emarginazione. Se c'è un modo per raccontare la morte di Massimo Bosco, quarantenne, nato in Germania ma di origini calabresi, è proprio questo. Massimo è morto nel parco del Pionta, dove si trovava il suo riparo di fortuna per la notte. È morto al termine di una lite per futili motivi, ucciso da una pietra scagliata da altri due disperati, un rumeno e una donna italiana. I due sono stati rintracciati all'interno della stazione di Arezzo, a poca distanza dal luogo dell'omicidio. Materialmente l'uccisione sarebbe stata compiuta dall'uomo straniero. La scena che si sono trovati di fronte gli inquirenti la scorsa notte non è quella di una lite tra bande criminali, né tanto meno di una rapina finita male. I protagonisti di questa storia avevano problemi di alcol, droga e solitudine. Nel caso della donna coinvolta si aggiungono anche disturbi psichiatrici. Tutti erano transitati per il centro d'ascolto della Caritas diocesana. Per questo l'omicidio del Pionta non può essere rilegato ad una mera questione di sicurezza. Certo, è vero che il parco tra la stazione ferroviaria e l'ospedale, soprattutto di notte, diventa territorio per spacciatori e persone poco raccomandabili. Non è accettabile che sia lasciata nel più completo abbandono una zona così importante per la città. Ma c'è anche dell'altro. La morte di Massimo Bosco è purtroppo il risvolto più brutto dei freddi numeri che raccontano la crisi senza fine che stiamo vivendo. Dietro a quelle cifre, le ultime sono quelle pubblicate ieri dal rapporto sulle povertà della Caritas, ci sono persone e disagi che troppo spesso restano in silenzio. E la disperazione non si può fermare soltanto con qualche telecamera in più.